E questo è il red carpet, eccolo, eccolo, Carlo Verdone sta arrivando, sta arrivando, lo prendiamo nel... Carlo, qua... tutti ti vogliono, una alla volta, eccoci. Carlo, qui di nuovo alla festa del cinema, che sensazioni hai, cosa hai sentito di questa festa? Mi sembra che chi è venuto ha visto dei buoni film, alla fine è andato bene, mi sembra che sia andato bene. Non è un festival, è una festa, ed è giusto che rimanga una festa, con una giuria popolare, che mi sembra la cosa migliore. Senti, quando ti rivediamo, siccome sei sul carpet insieme a Paola Cortellesi, quando è che vi rivediamo insieme, nuovamente, magari sullo schermo? Il film è un albanese a fine gennaio, poi dopo, però abbiamo un'idea, insomma, speriamo di poter rifare una cosa insieme, ci darei molto. È un momento complicato per Roma, tu e Romani che diresti, anche magari strappando loro un sorriso? È manutenzione, è manutenzione, non ci sono i soldi, tirate fuori i soldi, visto che se rimagnano ogni giorno, vediamo articoli di milioni che partono a destra e a sinistra. Questa è una città che va, è come una bocca gariata, cioè se non vuoi l'attacco dei Piorrea bisogna che la metti a posto il più presto possibile. Anche perché poi molti pedoni e molti motociclisti cascano e ogni giorno affollano l'ospedale, il reparto ortopedia, non mi sembra una città europea, sicuramente no. Quindi è inutile che ci facciamo cose, grandi bellezze, grandi guanno, no, questa città deve essere in preda alla manutenzione seria, se no non va da nessuna parte, facciamo anche brutta figura con i turisti. Cosa porterai all'incontro con il pubblico oggi? Oggi, dipende dalle domande.